6 italiani su 10 temono le contraffazioni a tavola, a certificarlo e col diretti. A spaventare e sottolinea col diretti sono soprattutto gli effetti sulla salute delle frodi a tavola che si moltiplicano nel tempo della crisi soprattutto con la diffusione dei cibi low cost. La frode alimentare, continua col diretti, è un crimine particolarmente odioso perché si fonda soprattutto sull'inganno nei confronti di quanti per la ridotta capacità di spesa sono costretti a risparmiare sugli acquisti di alimenti. Oltre un certo limite non è possibile farlo se non si vuole mettere a rischio la salute. Sul mercato si trovano ad esempio oli di oliva venduti come italiani a prezzi che, continua col diretti, non riescono a coprire neanche i costi di raccolta delle olive e lo stesso vale per i prosciutti o formaggi spacciati come nostrani o italiani senza esserlo.